non si può certo dire che non ci siano i funghi e chi dice che non ci sono i funghi è un bugiardo ecco per esempio cosa abbiamo trovato stamani mattina ora il primo pomeriggio 3 dico 1 2 3 l'accaria laccata di voi e che lo posso garantire io è un fungo diciamo edule mangiare mangiare sarebbe un impegno edule dello stessa famiglia c'è la l'accaria metistina che viola questa addirittura proprio è mangiabile ma fa nessun valore gastronomico la metistina molto meglio ma non c'è quindi oggi noi abbiamo trovato 3 l'accaria laccata contenta bru ora se le tengo meglio sei contenta bru? l'accaria laccata nella zona più umida di tutta del clavetone sono andato stop